Ciao ragazze, oggi in super ritardo il 4 settembre vabbè, fa niente vi mostro i prodotti finiti del mese appunto di agosto sono stati tutti dopo perché insomma mi sono trotta bene, quindi ve li mostro allora, in primis ho finito vado a random praticamente della Dentalux ho finito questo colluttorio che ho preso da Lidl ecco, colluttorio sensitive praticamente per per chi ha comunque i denti sensibili per tipo i dolci, salati e questo tipo di qua comunque l'ho trovato bene perché non è la prima volta che lo compro quindi, buono ho finito di Natural, secondo me shampoo questo shampoo alla vitamina E al pompelmo è frutto della passione con complesso vitamini, ho 2 in 1 shampoo e balsamo, ottimo lascio i capelli morbidi poi ho finito questo 2 in 1 al fior di loto e basilico buonissimo questo è l'unico che mi lascia i capelli abbastanza profumati poi di Yves Rocher ho finito questo la Mamelis shampoo diciamo di applicare maschere e cose perché già nasce i capelli abbastanza come dire morbidi poi ho finito questo della Von True che è praticamente una lozione struccante viso e occhi buonissime poi ho finito questa maschera 7 in 1 instant repair che serve per diciamo riparare tipo le doppie punte capelli eccetera è buonissimo poi ho finito della Vidal questo bagnoscuma della linea Emotion Emotion Esotic Love al fiore di tarité allora praticamente si è fiore di tarité però non assomiglia tipo a quello del Yves Rocher ha un odore che sembra un profumo che non so qual è poi anche se non c'entra niente come insomma prodotti diciamo bagnoscuma prodotti ho finito questo di qua il Defligné di Yves Rocher all'estratto di tè verde è praticamente praticamente un complemento alimentare scusate la mano ma mi sono macchiata di smalto vabbè e praticamente si mette tipo un misurino di questo prodotto nell'acqua in un litro d'acqua e si beve durante la giornata comunque io ho perso 2 kg con questo non so se è stato questo comunque io ho perso 2 kg quindi non lo so poi ho finito questi salvezzi estruccanti di dove non c'è acqua 20 pezzi praticamente sono quelli che già avevo preso una volta a negozio tutti 1 euro al supermercato li vendono 65 centesimi e quando li ho visti ho fatto subito festa poi ho finito un bagnoscuma della Senses dell'Avon ed è California Glow che è bellissimo dovete provarlo che è stato in campagna 10 allora praticamente questo è pompa al morrosa e frangipane ed è finissimo poi come come altre struccanti ho preso questi di Nive che sono anche ottime mi sono piaciute tante abbastanza umidificate cioè abbastanza prodotte cera mi sono piaciute poi ho finito un campioncino del dentifricio questo Helmex Sensitive Professional da 20 ml è buonissimo me l'hanno regalato ed è buonissimo ragazzi soprattutto per chi ha dolore ai denti chi soffre di dolore proprio acuto questo basta che voi vi lavate tre volte al giorno con questo dentifricio ed è fantastico non mi sembra l'ora di comprare quello in formato grande poi sempre Sensitive ho finito questa profumazione Oriental Zen che era te verde e gersumino buonissima però quella che cioè energizzante fresca però l'altra mi piace da lì ho finito di Avon Fem questo spray che è fantastico un'acqua profumata fantastica che vi straconsiglio se amate le fragranze spray o comunque volete qualcosa da portare in borsetta poi ho finito questa tinta che ho preso dall'Eurospin buonissima non me l'aspettavo che stanno scuro praticamente l'avevo presa soltanto per coprire tipo le radici e lasciare le punte chiare praticamente questo è buono c'è praticamente un olio che si mischia insieme alla crema colorante poi un olio per i capelli insomma la maschera carina poi a proposito di maschere ho finito una maschera peel off della clear skin che ormai non c'è più questa era una maschera notturna che si utilizzava la notte e poi la mattina si toglieva però siccome io la utilizzavo anche di giorno quindi me ne frego ho finito ho finito allora uno shampoo di advanced techniques supreme oils da 400 ml che la volta scorsa l'avete visto nel pacco però la cliente dice che non era questo quindi l'ho preso io l'ho provato e mi è piaciuto veramente tanto si si lascia i capelli abbastanza morbidi e districati però ovviamente dal seconda passata poi della della vonchera ho finito ho finito più era a metà quindi me la sono finita io della rich meister una crema per il viso alla soia strutto di soia vitaminae comunque è buona come crema abbastanza idratante l'applicavo quando non volevo tipo mettere niente in viso volevo idratare il viso così poi bagno schiuma d'av buonissimo questo l'ho preso nella versione classica buonissimo fragranza delicata così però buono ho finito a proposito anche di DAV due deodoranti dalla lina go fresh al cetro e ulette verde è buonissimo fa il suo lavoro non fa sudare profuma però l'ince fa schifo vabbè di questi ho finito poi ho finito un altro bagno schiuma questo al oriental zen sempre di senses ho finito una maschera della chiotis questa è maschera idratante la rosa canina buonissima ho finito uno shampoo 3 in 1 di rocher questo anche buono solo che l'altro quello bianco mi è piaciuto meglio praticamente 3 in 1 di istrica morbidisce ecc ho finito una maschera di clear skin questa è minerali neri che mi è stra 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 piaciuta veramente ottima fa un peso veramente pulito tolto dalle impurità di sebo di tutto ho finito della skin soft una crema depilatoria per rimuovere i peli questo era per il corpo però lo savo insomma dove mi serviva soprattutto l'arco di cupido solo che bruciamo un casino per fortuna non c'è più ora non so se l'hanno sostituita con qualcuna nuova ho finito questo californial glow sempre gel doccia ho finito di avon alpa questo spray per il corpo buonissimo e poi ho finito un altro oriental zen gel doccia poi c'è più no un gommage di pro rocher che lo trovate in offerta lo trovate a 12,95 gommage in maschera maschera ottimissima il gommage veramente buono e poi ho finito uno smalto mat di avon e una matita sempre di avon nera tanto buono questi sono tutti i prodotti finiti e niente vi saluto al prossimo video spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo e sarà il pacco di avon che arriverà tra pochi giorni ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti